Lezione 1. Affascinanti creature della natura selvaggia. Ciao Anna, sapevi che nel deserto vivono ratti canguri, cinghiali, lucertole cornute e oltre 100 specie di serpenti? Ciao John, è incredibile. La diversità della fauna selvatica nel deserto è davvero affascinante. I ratti canguro hanno potenti zampe posteriori e possono saltare grandi distanze per sfuggire ai predatori. Wow, è impressionante. La loro agilità e la rapidità dei riflessi devono aiutarli a sopravvivere nelle dure condizioni del deserto. Assolutamente. E a proposito di sopravvivenza, i maiali selvatici, noti anche come giavellotti, si sono adattati all'ambiente desertico cercando cibo e acqua. È straordinario come questi animali abbiano trovato il modo di prosperare in regioni così aride. E le lucertole cornute? Le lucertole cornute hanno caratteristiche fisiche uniche come squame appuntite e mimetizzazione, che le aiutano a mimetizzarsi con l'ambiente circostante ed evitare i predatori. Il camuffamento naturale è davvero straordinario. E cosa puoi dirmi delle diverse specie di serpenti che si trovano nel deserto? Bene, il deserto ospita un'ampia varietà di serpenti, tra cui serpenti assonagli, serpenti goffere e fruste, solo per citarne alcuni. È affascinante pensare ai diversi adattamenti e strategie di sopravvivenza che questi serpenti hanno sviluppato. Assolutamente. Dalle zanne velenose alla potente costrizione, ogni specie ha il suo modo unico di prosperare nell'ecosistema desertico. Esplorare la diversità della fauna selvatica nel deserto è come sbloccare un tesoro di conoscenze. È davvero affascinante. Non potrei essere più d'accordo. La natura ha un modo per sorprenderci e ispirarci con le sue incredibili creazioni. È un promemoria dell'importanza di preservare e apprezzare il mondo naturale che ci circonda. Infatti, continuiamo a imparare e ad ammirare le meraviglie della natura selvaggia. C'è molto altro da scoprire. Assolutamente. I misteri della natura sono infiniti. Restiamo curiosi e continuiamo a esplorare. Fino alla prossima volta. Ben detto. Fino alla nostra prossima avventura. Abbi cura di te e buona giornata. Lezione 2. Il mondo delle percussioni Ehi Anna, hai mai pensato di esplorare gli strumenti a percussione? Forse ti divertiresti di più. Ciao John. Questo è un suggerimento interessante. Sono sempre stato affascinato dal ritmo e dall'energia delle percussioni. Gli strumenti a percussione possono aggiungere un elemento dinamico a qualsiasi performance musicale. Assolutamente. Il modo in cui i batteristi creano ritmi e ritmi è davvero affascinante. Crea l'atmosfera e fa avanzare la musica. Se stai cercando un suono potente e imponente, puoi provare a suonare il tamburo. Oh, il cestello del bollitore. I suoi toni profondi e risonanti possono creare un forte impatto in un ensemble. Infatti. E oltre alla batteria, ci sono vari altri strumenti a percussione che offrono una vasta gamma di suoni. Puoi darmi qualche esempio? Mi piacerebbe esplorare le diverse opzioni disponibili. Certo. Che ne dite dell'oxilofono, della marimba, del tamburello e dei piatti? Ognuno ha il suo suono e il suo ruolo unici nella musica. L'oxilofono e la marimba producono toni melodici, mentre il tamburello e i piatti aggiungono consistenza e accenti. Giusto? È corretto. Gli strumenti a percussione possono creare una ricca gamma di suoni, aggiungendo profondità ed emozione alle composizioni musicali. È affascinante come la combinazione di diversi elementi percussivi possa creare una musica così diversa e accattivante. Assolutamente. Gli strumenti a percussione non si trovano solo negli ensemble tradizionali, ma svolgono un ruolo significativo anche nei generi musicali contemporanei. Esplorare gli strumenti a percussione sembra una porta verso un mondo musicale vibrante e ritmato. L'hai immortalato alla perfezione. È un mondo in cui il ritmo è al centro della scena e sprigiona la sua potenza. Sono entusiasta di immergermi più a fondo nel regno delle percussioni e scoprire la magia che racchiude. Grazie per il suggerimento. Siete i benvenuti. Sono lieto di poterti ispirare. Goditi il tuo viaggio musicale e ricorda che il ritmo ti guiderà. Lo farò. Grazie ancora. Continueremo presto a esplorare nuovi argomenti insieme. Abbi cura di te. Assolutamente. Abbi cura di te e che il tuo ritmo sia sempre in armonia. Fino alla prossima volta. Lezione 3. Accettare le sfide Ehi Anna, abbiamo avuto tutti i momenti difficili in passato. Non è la fine del mondo, sai? Ciao John. Hai assolutamente ragione. La vita è piena di alti e bassi e senza dubbio affronteremo delle sfide anche in futuro. Affrontare le sfide è una parte naturale del viaggio della vita. È il modo in cui cresciamo e impariamo da queste esperienze. Questo è vero. I momenti difficili possono essere opportunità di sviluppo personale e resilienza. Esattamente. È durante quei momenti difficili che scopriamo la nostra forza e determinazione interiori. È importante ricordare che i momenti difficili non ci definiscono. Sono solo ostacoli temporanei sulla nostra strada verso il successo. Ben detto. Tutto sta nel modo in cui rispondiamo a queste sfide e continuiamo ad andare avanti. Assolutamente. Mantenendo una mentalità positiva e cercando supporto quando necessario, possiamo superare qualsiasi ostacolo. Ed è fondamentale ricordare che non siamo i soli ad affrontare le difficoltà. Possiamo contare sui nostri cari per ricevere incoraggiamento e guida. Avere un forte sistema di supporto fa una grande differenza. Ci ricorda che facciamo parte di una comunità più ampia. Infatti. Insieme possiamo sollevarci e ispirarci a vicenda, specialmente nei momenti più difficili. È confortante sapere che abbiamo la forza e la resilienza per superare qualsiasi sfida ci si presenti. Assolutamente. I momenti difficili possono metterci alla prova, ma offrono anche opportunità di crescita e scoperta di sé. Accettando le sfide e imparando da esse, diventiamo meglio attrezzati per affrontare i colpi di scena della vita. Ben detto. Affrontiamo ogni sfida con coraggio, sapendo di avere il potere di superarla e prosperare. Non potrei essere più d'accordo. Continuiamo ad abbracciare il viaggio, sapendo che i momenti difficili ci rendono solo più forti. Infatti. Insieme, affrontiamo il futuro con resilienza e determinazione incrollabile. Abbiamo questo. Assolutamente. Abbiamo questo. Ecco come affrontare le sfide a testa alta ed emergere ancora più forti. Saluti. Saluti. Alla crescita, alla resilienza e allo spirito incrollabile che risiede dentro di noi. Fino alla prossima volta. Lezione 4. Gestire le situazioni difficili con grazia. Ehi Anna, hai mai notato quanto bene gli assistenti siano addestrati a gestire situazioni molto difficili? Ciao John. Assolutamente. È impressionante come rimangano calmi e composti, anche di fronte a circostanze difficili. Gli assistenti sono sottoposti a una formazione rigorosa per garantire che siano in grado di gestire qualsiasi situazione che si presenti durante le loro mansioni. È straordinario come la loro formazione fornisca loro le capacità per affrontare anche gli scenari più difficili. Sono formati per valutare rapidamente la situazione e prendere decisioni che diano priorità alla sicurezza e al benessere degli altri. La loro capacità di rimanere equilibrati e rassicuranti è fondamentale per calmare le persone coinvolte in circostanze difficili. Assolutamente. Gli assistenti possiedono eccellenti capacità comunicative che li aiutano a gestire efficacemente situazioni di tensione. Hanno una notevole capacità di entrare in empatia con gli altri e offrire supporto nei momenti difficili. I partecipanti possiedono anche capacità di risoluzione dei problemi che consentono loro di trovare soluzioni anche nelle situazioni più complesse. La loro formazione li prepara ad adattarsi a sfide impreviste e a prendere decisioni rapide per garantire la sicurezza di tutti. È stimolante vedere come mantengono professionalità e compostezza, anche sotto un'immensa pressione. La loro capacità di rimanere concentrati e composti è un esempio per tutti noi su come gestire le situazioni difficili. Possiamo imparare molto dagli assistenti su come mantenere la calma, pensare razionalmente e trovare soluzioni in tempi difficili. Assolutamente. La loro competenza ed esperienza sono una preziosa lezione per gestire con garbo situazioni difficili. Accogliamo il loro esempio e applichiamo le loro strategie nella nostra vita quando incontriamo circostanze difficili. Imparando dagli assistenti, possiamo sviluppare le nostre capacità nel gestire situazioni difficili con equilibrio e sicurezza. Infatti, ricordiamoci che abbiamo la forza dentro di noi per affrontare qualsiasi sfida ci si presenti. Assolutamente. Con la mentalità e le competenze giuste, possiamo affrontare situazioni difficili ed emergere più forti. Sforziamoci di essere come quegli assistenti ben addestrati, che affrontano le sfide della vita con grazia e resilienza. Non potrei essere più d'accordo. Ecco come affrontare le sfide e padroneggiare l'arte di gestire situazioni difficili. Saluti! Saluti! Alla nostra crescita, alla nostra forza e alla capacità di affrontare qualsiasi difficoltà con una grazia incrollabile. Alla prossima volta! Lezione 5. America S. Cookie Crase Eianna, sai qual è il biscotto più popolare in America? Ciao John! Sì! Il biscotto con gocce di cioccolato ha quel titolo. È uno dei preferiti di tutti i tempi per molte persone. Assolutamente! È interessante come questa classica delizia possa essere gustata in vari modi. Puoi facilmente acquistare biscotti preconfezionati con gocce di cioccolato nei negozi oppure puoi cuocerli a casa per un tocco fatto in casa. C'è qualcosa di speciale nell'aroma dei biscotti al cioccolato appena sfornati che riempiono la casa, vero? Sicuramente! Cuocere i biscotti a casa ti consente di personalizzare gli ingredienti e prepararli come preferisci. Inoltre, è un'attività divertente da fare con la famiglia e gli amici. Tutti possono partecipare e contribuire alla creazione di deliziosi biscotti. Assolutamente! È un ottimo modo per creare legami e creare ricordi duraturi soddisfacendo la tua voglia di dolci. E non dimentichiamo la gioia di concedersi un biscotto caldo e appiccicoso con gocce di cioccolato appena sfornato. Ah! Il cioccolato fondente e il centro morbido. È un'esperienza deliziosa per le papille gustative. Oltre alle gocce di cioccolato, ci sono altre varietà di biscotti popolari in America, come l'uvetta d'avena e il burro di arachidi. Questo è vero! Ogni cookie ha il suo profilo aromatico unico e fa appello a preferenze diverse. È affascinante come un semplice dolcetto come un biscotto possa unire le persone ed evocare sentimenti di conforto e nostalgia. Assolutamente! Il cibo ha un modo per connettere le persone ed evocare bei ricordi del passato. Che li compri o li cuoci, i biscotti sono una delizia amata che può essere gustata da persone di tutte le età. Sono perfetti per feste, riunioni o anche come toccasana durante il giorno. E con innumerevoli ricette e varianti disponibili, c'è sempre una nuova avventura di biscotti che aspetta di essere esplorata. Questa è la bellezza dei biscotti. La creatività non manca quando si tratta di sapori e abbinamenti. Quindi, che tu stia prendendo un pacco dal negozio o preparandone un lotto a casa, i biscotti sono una delizia deliziosa. Assolutamente! Sono una dolce fuga dalla routine quotidiana. Una piccola delizia da assaporare e gustare. Concedersi un delizioso biscotto è come vivere un momento di felicità ad ogni boccone. Ben detto! Abbracciamo la mania dei biscotti e concediamoci queste deliziose prelibatezze ogni volta che abbiamo voglia di un po' di dolcezza. Non potrei essere più d'accordo. Ecco la gioia dei biscotti e la felicità che portano. Fino alla prossima volta. Saluti! Ecco la magia dei biscotti e i semplici piaceri che offrono. Ci sentiamo presto. Prenditi cura di te e arrivederci per ora. Grazie, resta dolce e continua a goderti i piccoli piaceri della vita. Abbi cura di te e arrivederci per ora. Lezione 6. Esplorare le possibilità Ciao Anna, non ho ancora deciso. Sono aperto a suggerimenti. Qualche idea? Ciao John. Che ne dici di provare un nuovo hobby? La pittura o la fotografia potrebbero essere opzioni interessanti. Questo è un ottimo suggerimento. Sono sempre stato affascinato dalla fotografia. Catturare momenti ed esplorare diverse prospettive sembra affascinante. Assolutamente. La fotografia ti permette di esprimere la tua creatività e vedere il mondo attraverso una lente unica. Mi piace l'idea di immortalare paesaggi meravigliosi o anche foto spontanee di persone nella loro vita quotidiana. La fotografia può essere un modo meraviglioso per documentare ricordi e creare storie visive. Hai ragione è uno sbocco creativo che unisce arte e narrazione. Se sei interessato alla pittura, è un altro modo fantastico per esprimerti artisticamente. Non ho mai provato a dipingere prima d'ora, ma l'idea di creare qualcosa con le pennellate mi entusiasma. La pittura ti consente di esplorare colori, texture e tecniche diverse. Puoi dare libero sfogo alla tua immaginazione. Sembra intrigante. Potrei sperimentare diversi stili e trovare la mia voce artistica. Assolutamente. Si tratta solo di abbracciare il processo e godersi il viaggio di autoespressione. Oltre alla pittura e alla fotografia, ci sono altri hobby che consiglieresti di esplorare? Che ne dici di imparare a suonare uno strumento musicale, come la chitarra o il pianoforte? La musica può portare tanta gioia e soddisfazione. Ho sempre ammirato i musicisti e la loro capacità di creare bellissime melodie. Imparare uno strumento sembra impegnativo ma gratificante. Infatti, suonare uno strumento può essere un modo meraviglioso per rilassarsi, esprimere emozioni e connettersi con gli altri attraverso la musica. Mi piace l'idea di poter creare la mia musica e condividerla con gli altri. È una forma di autoespressione che trascende il linguaggio. Assolutamente! La musica ha un linguaggio universale che può toccare il cuore delle persone e unirle. Grazie per i suggerimenti. Esplorare nuovi hobby sembra un ottimo modo per scoprire nuove passioni e interessi. Siete i benvenuti! Abbracciare nuovi hobby può aprire le porte a esperienze entusiasmanti e alla crescita personale. Mi sento ispirato a uscire dalla mia zona di comfort e provare qualcosa di nuovo. È tempo di intraprendere un viaggio di scoperta. Questo è lo spirito. Abbraccia l'ignoto e rimarrai stupito di ciò che puoi ottenere. Ti auguro tutto il meglio! Grazie il tuo supporto significa molto! Ecco come abbracciare nuove possibilità e trovare gioia nel viaggio. Fino alla prossima volta! Lezione 7 Affrontare le paure Ciao Anna, ti sei mai fatta fotografare da un fotografo professionista? Ciao John, sì! Ho fatto alcuni servizi fotografici professionali. Catturare momenti speciali può essere un'esperienza divertente. Sembra interessante. Mi sono sempre sentito un po' a disagio davanti alla telecamera. Sorridere naturalmente è la mia paura peggiore. È normale sentirsi imbarazzati. Ma i fotografi professionisti sanno come farti sentire a tuo agio e tirare fuori il meglio di te. Immagino che si tratti di affidarsi all'esperienza del fotografo e lasciare andare il giudizio personale. Assolutamente! Rilassati! Sii te stesso e lascia trasparire il tuo sorriso naturale. Ci proverò la prossima volta. Sarebbe bello avere delle foto professionali da custodire. Sono sicuro che te la caverai alla grande. Le foto professionali possono essere un ottimo modo per immortalare ricordi e celebrare traguardi importanti. Parlando di paure, hai paure o fobie specifiche? Beh, ho paura dell'acqua. Gli specchi d'acqua profondi mi fanno sentire ansioso e a disagio. Deve essere una sfida. L'acqua è un elemento così comune nella nostra vita. Lo è. Ma cerco di affrontare la mia paura a piccoli passi. Come prendere lezioni di nuoto o passare del tempo vicino a specchi d'acqua calmi. Affrontare le paure gradualmente può aiutare a rafforzare la fiducia e a superarle nel tempo. Esattamente. Si tratta solo di fare piccoli passi avanti e non lasciare che la paura ti freni. Ammiro il tuo coraggio. Ci vuole forza per affrontare le nostre paure frontalmente. Grazie a tutti abbiamo delle paure. Ma è importante ricordare che abbiamo il potere di superarle. Hai ragione le nostre paure non ci definiscono. È il modo in cui li affrontiamo e li conquistiamo che conta davvero. Assolutamente. Cresciamo e impariamo di più quando usciamo dalle nostre zone di comfort. Grazie per averlo condiviso. Il tuo viaggio per affrontare la tua paura è fonte di ispirazione. Siete i benvenuti. Ricorda, siamo tutti in grado di affrontare le nostre paure e intraprendere una vita di coraggio e crescita. Lo terrò a mente. Dobbiamo affrontare le nostre paure e vivere la vita al massimo. Fino alla prossima volta. Lezione 8 Esplorazione di nuovi hobby Ciao Anna, hai mai provato il rollerblade o lo skateboard? Ciao John. Sì, ho provato entrambi. Sono attività entusiasmanti. Hai mai pensato di provarli? Sono sempre stato curioso di conoscerli. Il rollerblade e lo skateboard sembrano modi entusiasmanti per godersi le attività all'aperto. Sicuramente lo sono. Il rollerblading offre un'esperienza fluida e veloce, mentre lo skateboard consente acrobazie e acrobazie. Sembra affascinante. Penso che apprezzerei la velocità e l'adrenalina dei pattini a rotelle. Il rollerblade è un ottimo modo per allenarsi ed esplorare l'ambiente circostante. Inoltre, può essere molto divertente. E che mi dici dello skateboard? Ho visto persone eseguire acrobazie e manovre impressionanti sugli skateboard. Lo skateboard è un modo fantastico per sfidare se stessi e migliorare l'equilibrio e la coordinazione. Mi piace l'idea di provarli entrambi e vedere quale mi piace di più. Entrambi sembrano degli hobby entusiasmanti. Questo è un ottimo approccio. A volte, è necessario provare diverse attività per trovare quella che ti piace di più. Esattamente. Si tratta solo di esplorare nuove possibilità e scoprire nuove passioni. Assolutamente. Provare nuovi hobby può portare entusiasmo e soddisfazione nella nostra vita. Sono entusiasta di provare il rollerblade e lo skateboard. È un'avventura che aspetta di accadere. Questo è lo spirito. Goditi il brivido. Goditi il viaggio e divertiti esplorando queste entusiasmanti attività. Grazie e il tuo incoraggiamento significa molto. Ecco come provare nuovi hobby e provare la gioia della scoperta. Fino alla prossima volta. Lezione 9. Room Makeover Ciao Anna, hai mai pensato di riorganizzare il tuo spazio abitativo o gli spogliatoi? Ciao John. Sì, ci ho pensato. A volte, un nuovo arrangiamento può dare nuova vita a una stanza. Che ne dite di voi? Volevo cambiare un po' le cose. Se possibile, vorrei un salotto più vivace e accogliente. Sembra un'ottima idea. L'aggiunta di accenti colorati e mobili confortevoli può fare una grande differenza. Penso anche che una migliore illuminazione creerebbe un'atmosfera calda e invitante. L'illuminazione può davvero trasformare uno spazio. Assolutamente. Puoi sperimentare diversi tipi di illuminazione, come lampade da terra o luci a corda, per creare l'atmosfera che desideri. Ho visto alcuni design di interni ispiranti online. È incredibile come piccoli cambiamenti possano trasformare completamente una stanza. L'interior design è incentrato sulla creatività e sull'espressione personale. Puoi incorporare il tuo stile e le tue preferenze nel restyling. Mi piace anche l'idea di incorporare alcune piante. Non solo aggiungono bellezza, ma purificano anche l'aria. Le piante sono un'aggiunta meravigliosa. Portano un tocco di natura all'interno e creano un'atmosfera fresca e rilassante. Ci proverò sicuramente. È tempo di creare uno spazio che rifletta la mia personalità e mi faccia sentire a mio agio. Questo è lo spirito. Il tuo spazio abitativo dovrebbe riflettere chi sei e un luogo in cui puoi rilassarti e ricaricarti. Grazie le tue intuizioni e idee mi hanno ispirato. Ecco come trasformare i nostri spazi abitativi in paradisi di comfort e stile. Fino alla prossima volta. Lezione 10. Fitness e stile di vita. Eianna, pensi che le persone in passato fossero meno attive rispetto a adesso? Ciao John. È possibile questo era probabilmente vero per i canadesi all'epoca. La forma fisica non era molto prioritaria. Questo è interessante. Mi fa apprezzare l'enfasi che diamo oggi al fitness e al benessere. Assolutamente. Al giorno d'oggi, le persone sono più consapevoli dell'importanza di rimanere attivi e prendersi cura della propria salute. Credo che l'esercizio fisico regolare non solo migliori il nostro benessere fisico, ma aumenti anche la nostra salute mentale ed emotiva. Hai assolutamente ragione. L'esercizio fisico rilascia endorfine, che sono stimolatori naturali dell'umore. È incredibile come un semplice allenamento possa farci sentire più energici e positivi. Sicuramente. L'inattività può portare a vari problemi di salute, quindi è essenziale incorporare il movimento nella nostra vita quotidiana. Ho notato che oggigiorno ci sono così tante opzioni per rimanere attivi, come lezioni di fitness, sport e attività all'aperto. Questo è vero. Abbiamo una vasta gamma di scelte per rendere piacevole l'esercizio e trovare qualcosa che soddisfi i nostri interessi. Penso che sia fantastico che le persone stiano trovando modi creativi per mantenersi in forma e fare dell'attività fisica una parte del loro stile di vita. Assolutamente. Si tratta solo di trovare attività che ci piacciono e che ci rendano entusiasti di muovere i nostri corpi. Sono grato per la crescente consapevolezza e accessibilità delle risorse per il fitness. Mi motiva a condurre uno stile di vita più sano. È meraviglioso. Piccoli passi verso uno stile di vita più sano possono portare a miglioramenti significativi a lungo termine. Grazie le tue intuizioni hanno rafforzato il mio impegno a dare priorità alla mia salute e al mio benessere. A una vita attiva e appagante. Fino alla prossima volta. Lezione 11. Cibo e viaggi Ciao Anna. Ho sentito che c'è un nuovo ristorante in città con cibo delizioso. Volete provarlo? Ciao John. Sembra eccitante. Conta su di me. Sono sempre pronto a provare piatti nuovi e gustosi. Ottimo. Dovremmo fare una prenotazione per assicurarci un tavolo. È sempre meglio pianificare in anticipo. Assolutamente. Dovremmo prenotare l'alloggio in anticipo anche se è lontano da casa nostra? Questo è un buon punto. Se il ristorante si trova in un'altra città, sarebbe saggio assicurarsi un posto dove stare. Sono d'accordo. È meglio avere un posto comodo dove rilassarsi dopo aver gustato un ottimo pasto. Inoltre, prenotare in anticipo può spesso farci risparmiare denaro e assicurarci di avere più opzioni tra cui scegliere. Sicuramente. È sempre bello avere flessibilità e l'opportunità di esplorare altre attrazioni della zona. Parlando di attrazioni, sai se ci sono punti di riferimento o luoghi turistici famosi vicino al ristorante? Non ne sono sicuro. Possiamo fare qualche ricerca per vedere cos'altro possiamo visitare mentre siamo lì. Sembra un piano. Esplorare la cultura e le attrazioni locali renderebbe il nostro viaggio ancora più memorabile. Assolutamente. Non si tratta solo del cibo, ma anche di immergerci nell'intera esperienza. Non vedo l'ora di provare il piatto speciale del ristorante. Ho sentito che fa venire l'acquolina in bocca. Anch'io. L'attesa di assaggiare nuovi sapori e creazioni culinarie è sempre emozionante. Effettuiamo la prenotazione e iniziamo a pianificare la nostra avventura gastronomica. Non vedo l'ora di concedermi una cucina deliziosa. Concordato. Sarà un viaggio gastronomico pieno di deliziose sorprese. Fino alla prossima volta. Saluti. Che la nostra esplorazione del cibo ci porti gioia, soddisfazione e un più profondo apprezzamento per le diverse cucine. Ci sentiamo presto. Prenditi cura di te e arrivederci per ora. Lezione 12. Salute e benessere Ciao Anna. Prendi degli integratori per sostenere il tuo sistema immunitario? Ciao John. Sì. Prendo anche pillole di vitamina C. Ogni volta che mi viene il raffreddore, mi assicuro di aver preso la mia pillola di vitamina C. È un'ottima abitudine. La vitamina C è nota per le sue proprietà immunostimolanti. Assolutamente. Aiuta a rafforzare il nostro sistema immunitario e può potenzialmente ridurre la gravità dei sintomi del raffreddore. Ho anche sentito dire che la vitamina C è un antiossidante, che può proteggere le nostre cellule dai danni. È corretto. Gli antiossidanti svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della salute generale e nella lotta contro i radicali liberi. È affascinante come qualcosa di semplice come una vitamina possa avere benefici così significativi per il nostro benessere. Sicuramente. Prendersi cura della propria salute è essenziale e gli integratori possono essere un'utile aggiunta a una dieta equilibrata. Oltre alla vitamina C, ci sono altri integratori che trovi utili? Sì. Prendo anche un multivitaminico per assicurarmi di assumere una varietà di nutrienti essenziali. È una scelta saggia. Un multivitaminico può colmare eventuali lacune nutrizionali e sostenere la salute generale. Assolutamente. È importante ricordare che gli integratori dovrebbero integrare uno stile di vita sano, compresa una dieta nutriente e un regolare esercizio fisico. Non potrei essere più d'accordo. Si tratta solo di adottare un approccio olistico al nostro benessere. Infatti. Ed è sempre una buona idea consultare un operatore sanitario prima di iniziare qualsiasi nuovo integratore. Un consiglio saggio. Possono fornire consigli personalizzati in base alle nostre esigenze specifiche e alle nostre condizioni di salute. Sicuramente. La nostra salute è troppo importante per correre rischi o fare scelte disinformate. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sugli integratori e sul supporto immunitario. Prenderò sicuramente in considerazione l'idea di incorporarli nella mia routine. Fino alla prossima volta. Lezione 13. Cucina e apprendimento. Ciao Anna. Ti piace provare nuove ricette? Ciao John. Sì, adoro sperimentare piatti diversi. È un buon modo per imparare ed espandere le mie abilità culinarie. Questo è fantastico. La cucina è un modo meraviglioso per esplorare nuovi sapori e culture. Assolutamente. Ci permette di essere creativi e di esprimerci attraverso il cibo. Parlando di ricette, ne hai di preferite che vorresti condividere? Sì. Ho scoperto di recente una deliziosa ricetta di pasta con salsa di pomodoro fatta in casa. È semplice ma soddisfacente. Sembra appetitoso. Mi piacerebbe provarlo. Potresti condividere la ricetta con me? Certo. Te lo spedirò. È facile da seguire e sono sicuro che ti divertirai a farlo. Grazie. Non vedo l'ora di provare a fare il sugo per la pasta fatta in casa. Siete i benvenuti. Cucinare significa sperimentare e godersi il processo. Sono d'accordo. È una grande opportunità per imparare e migliorare le nostre abilità culinarie. Assolutamente. E oltre alla pasta, hai provato a preparare altri piatti di recente? Sì. Sto esplorando diversi modi per cucinare le uova. Sono un ingrediente così versatile. È meraviglioso. Le uova possono essere preparate in tanti modi deliziosi. Sto sperimentando omelette, uova strapazzate e persino uova in camicia. Questo è fantastico. Le uova sono ricche di sostanze nutritive e possono essere un pasto veloce e nutriente. Sicuramente. Sono sempre stupito di come un ingrediente semplice come un uovo possa creare così tanti sapori. Cucinare è davvero un viaggio continuo di scoperta e apprendimento. Non potrei essere più d'accordo. Grazie per avermi ispirato a provare nuove ricette. Non vedo l'ora di iniziare. Fino alla prossima volta. Lezione 14. Fughe del fine settimana Ciao Anna. Hai mai fatto un weekend per esplorare un posto nuovo? Ciao John. Sì. Adoro fare brevi viaggi verso destinazioni vicine. È un ottimo modo per rilassarsi e scoprire nuovi posti. Sembra meraviglioso. Stavo pensando che potremmo organizzare un viaggio di fine settimana insieme. Sembra eccitante. Dove pensavi di andare? Ho sentito che c'è una bellissima città a circa tre ore di macchina da qui. Potremmo partire presto venerdì e tornare domenica. Sembra perfetto. Esplorare una nuova città sembra un ottimo modo per trascorrere il fine settimana. Sono d'accordo. È sempre piacevole sfuggire alla routine e provare qualcosa di diverso. Assolutamente. Hai in mente attività o attrazioni specifiche per il nostro viaggio? Ho sentito che c'è un'incantevole zona del centro con negozi e caffè unici. Potremmo passare del tempo ad esplorarli. Sembra delizioso. Mi piace sempre esplorare i negozi locali e provare nuovi cibi. Anch'io. È un ottimo modo per immergerci nella cultura locale. Sicuramente. C'è altro che vorresti fare mentre siamo lì? Ho anche sentito che c'è un bellissimo sentiero escursionistico nelle vicinanze. Sarebbe una grande opportunità per godersi la natura e fare un'escursione. Sembra un'idea fantastica. Adoro essere circondato dalla natura e fare escursioni. Allora è deciso. Faremo un mix tra esplorare la città e goderci la vita all'aria aperta. Non vedo l'ora. Sarà un weekend memorabile. Infatti. È sempre bello creare nuovi ricordi e vivere avventure insieme. Fino alla prossima volta. Lezione 15. Esprimere apprezzamento e gesti. Ehi Anna. Apprezzo molto il tuo impegno per imparare una nuova lingua. Ciao John. Grazie mille imparare una nuova lingua apre un mondo completamente nuovo. Sicuramente sì. Ho sentito che alcuni gesti possono essere compresi universalmente. Ne hai trovato qualcuno? Sì. Ad esempio, un sorriso è spesso visto come un gesto amichevole in tutte le culture. Questo è vero. Un sorriso può abbattere le barriere e creare una connessione positiva. Assolutamente. Un altro gesto è un cenno del capo, che spesso significa accordo o comprensione. Giusto. Un cenno del capo può indicare che stai ascoltando e seguendo attivamente la conversazione. Esattamente. È importante essere consapevoli anche delle differenze culturali nei gesti. Assolutamente. Ciò che può essere considerato appropriato in una cultura potrebbe avere un significato diverso in un'altra. Questo è un buon punto. È sempre utile conoscere le norme e i gesti culturali quando si interagisce con persone di diversa estrazione. Infatti. Mostra rispetto e aiuta a costruire relazioni forti. Sicuramente. Essendo consapevoli dei gesti, Possiamo comunicare in modo efficace ed evitare malintesi. Assolutamente. È affascinante come i gesti possano superare le barriere linguistiche. Lo è davvero. Ci permettono di connetterci ed esprimerci al di là delle parole. Ben detto. La tua dedizione all'apprendimento e alla comprensione dei diversi aspetti della lingua e della cultura è ammirevole. Grazie. Credo che l'apprendimento sia un viaggio che dura tutta la vita. Possiamo sempre scoprire qualcosa di nuovo. Questo è molto vero. L'apprendimento arricchisce la nostra vita e amplia le nostre prospettive. Continuate così. Lezione 16. Nuovi inizi in Canada Hey Anna, sai cos'è successo quando la guerra è finita? I lealisti hanno dovuto lasciare il paese. Ciao John. Sì, ne sono consapevole. Si sono trasferiti a Nord, in Canada, dove hanno potuto ricominciare da capo. Giusto. Il Canada è diventato un rifugio per chi cerca un nuovo inizio. È incredibile come le persone possano ricostruirsi una vita in un nuovo paese. Assolutamente. Ricominciare da capo può essere impegnativo, ma anche pieno di opportunità. Sicuramente. Il Canada ha fornito un rifugio sicuro e la possibilità per i lealisti di creare una nuova casa. E hanno contribuito alla crescita e alla diversità della popolazione canadese. Questo è vero. Il loro arrivo ha arricchito il tessuto culturale del paese. Assolutamente. È affascinante come la migrazione possa plasmare la storia e l'identità di una nazione. La migrazione ha sempre avuto un ruolo significativo nel plasmare il mondo in cui viviamo. Infatti. È una testimonianza della resilienza e dell'adattabilità dello spirito umano. Assolutamente. Le persone hanno una notevole capacità di superare le sfide e adattarsi a nuovi ambienti. Questo è molto vero. È stimolante vedere come individui e comunità prosperano in territori sconosciuti. Ci ricorda la forza e il potenziale dentro ognuno di noi. Assolutamente. Ci incoraggia ad accettare il cambiamento e accogliere nuove opportunità. Il cambiamento può intimidire, ma può anche portare alla crescita personale e a nuovi inizi. Non potrei essere più d'accordo. È importante accettare il cambiamento e affrontarlo con una mente aperta. Il cambiamento può essere un catalizzatore per la trasformazione e la scoperta. Ben detto. Ricordiamoci che ogni fine è anche un'occasione per un nuovo inizio. Fino alla prossima volta. Lezione 17. Cittadinanza attiva e proteste. Eianna, pensi che proteste come raduni e dimostrazioni siano efficaci nel fare la differenza? Ciao John. Assolutamente. Le proteste offrono ai cittadini una piattaforma per esprimere le proprie preoccupazioni ed essere ascoltati. Questo è vero. È importante che i governi ascoltino le preoccupazioni dei cittadini. Sicuramente. Le proteste possono attirare l'attenzione su questioni importanti e spingere al cambiamento. È affascinante come l'azione collettiva possa influenzare le politiche e plasmare la società. Sì. Quando le persone si uniscono per una causa comune, la loro voce diventa più forte. Giusto. Le proteste possono creare consapevolezza e mobilitare le comunità. Possono stimolare conversazioni e incoraggiare il dialogo tra le diverse parti interessate. Assolutamente. Le proteste possono anche ispirare altri ad agire e ad essere cittadini più impegnati. Questo è molto vero. Possono accendere un senso di emancipazione e solidarietà. È importante, tuttavia, che le proteste rimangano pacifiche e rispettose. Le proteste pacifiche hanno maggiori probabilità di raccogliere consensi e avere un impatto duraturo. Esattamente. La violenza e la distruzione possono oscurare il messaggio e ostacolare il progresso. I manifestanti dovrebbero impegnarsi per un dialogo costruttivo e cercare soluzioni pacifiche. Ben detto. È importante ricordare che il cambiamento può essere ottenuto anche attraverso altri mezzi, come il sostegno e il coinvolgimento della comunità. Lezione 18. Pietre miliari nella vita di un bambino. Ehi, Anna. Il primo anno di vita di un bambino è pieno di traguardi entusiasmanti, vero? Ciao, John. Assolutamente. È incredibile quanto velocemente crescano e sperimentino molti primati. Questo è vero. Come la prima volta che un bambino dorme tutta la notte, è un grande risultato sia per il bambino che per i genitori. Sicuramente. Dona un senso di sollievo e la possibilità per tutti di riposarsi. È incredibile come i loro schemi di sonno si evolvano e diventino più strutturati nel tempo. Sì. Dal risveglio frequente a periodi di sonno più lunghi, è una pietra miliare significativa. E poi c'è la prima volta che un bambino inizia a gattonare ed esplorare l'ambiente circostante. È un momento emozionante vederli diventare più mobili e curiosi del mondo. Assolutamente. Sono ansiosi di toccare ed esplorare tutto ciò che hanno a portata di mano. È importante creare un ambiente sicuro in cui possano esplorare e imparare. Sì. Rendere la casa a prova di bambino diventa essenziale man mano che i bambini diventano più attivi. E non dimentichiamo la prima volta che dicono la loro prima parola. È un momento così speciale. È commovente sentire le loro vocine e assistere allo sviluppo del loro linguaggio. La comunicazione diventa più sfumata man mano che imparano a esprimere i propri bisogni e desideri. Sicuramente. Dovremmo incoraggiare le loro competenze linguistiche e avviare conversazioni con loro. Lezione 19. Esperienza lavorativa e durata. Ehi Anna, per quanto tempo hai lavorato nel tuo precedente lavoro? Ciao John. Ho lavorato lì per tre anni. È stata un'esperienza preziosa. È impressionante. Tre anni sono una notevole quantità di tempo per acquisire conoscenze e competenze. Sicuramente. Mi ha permesso di crescere professionalmente e sviluppare nuove competenze. È importante avere una solida base di esperienza lavorativa nel campo prescelto. Sì. Ci aiuta a costruire una solida rete professionale e apre le porte a nuove opportunità. Assolutamente. I datori di lavoro spesso apprezzano i candidati con una comprovata esperienza ed edizione. È anche importante riflettere sulle nostre esperienze lavorative e imparare da esse. Vero. L'autoriflessione ci aiuta a identificare le aree di miglioramento e crescita personale. E non si tratta solo della durata, ma anche della qualità del lavoro a cui contribuiamo. Ben detto. Avere un impatto significativo e ottenere risultati sono fondamentali. È essenziale trovare un equilibrio tra quantità e qualità nel nostro lavoro. Concordato. I datori di lavoro apprezzano i dipendenti che producono costantemente un lavoro di alta qualità. E a volte è necessario esplorare nuove opportunità e sfidare noi stessi. Assolutamente. È importante cercare la crescita e non aver paura del cambiamento. Che lavoriamo da qualche parte per alcuni mesi o diversi anni. Ogni esperienza aggiunge valore. Questo è vero. Ogni esperienza lavorativa contribuisce al nostro percorso professionale. Lezione 20. Apprendimento collaborativo e aree di interesse. Eianna, esaminiamo insieme il materiale. Aiuterà a rafforzare la nostra comprensione. Ciao John. Sembra un'ottima idea. L'apprendimento collaborativo può essere molto efficace. Sicuramente. Lavorare insieme ci permette di condividere idee e aiutarci a vicenda. Certo. Ci sono aree specifiche su cui vorresti concentrarti? Cominciamo con i principi dell'algebra. È importante avere una base solida. Assolutamente. L'algebra pone le basi per molti concetti matematici. Comprendere le equazioni e risolvere le variabili è fondamentale in vari campi. Sono d'accordo. È essenziale sentirsi a proprio agio nel manipolare equazioni ed espressioni. Passiamo ora alla grammatica. Possiamo rivedere i tempi verbali e la struttura delle frasi? Certo. I tempi verbali svolgono un ruolo significativo nel trasmettere informazioni accurate. Comprendere la struttura delle frasi ci aiuta a costruire frasi chiare e coerenti. Quindi, esaminiamo il vocabolario. Giusto. Ci consente di esprimerci in modo più preciso ed efficace. Che ne dici di esercitarti nella pronuncia? È importante essere chiari e comprensibili. Assolutamente. Lavoriamo sull'enunciazione delle parole e sulla pratica della corretta intonazione. Non dimentichiamo la comprensione della lettura. Migliora le nostre competenze linguistiche complessive. Vero. La lettura ci espone a diversi stili di scrittura e amplia le nostre conoscenze. Infine, dedichiamoci alla pratica della conversazione. Aumenta la nostra fluidità e fiducia in noi stessi. Non potrei essere più d'accordo. La pratica della conversazione ci aiuta ad applicare ciò che abbiamo imparato. Lezione 19. Lealtà professionale e società collettiviste. Ciao Anna. Sapevi che le persone nelle società collettiviste spesso preferiscono rimanere in un'azienda per tutta la carriera? Ciao John. Sì, questo è un aspetto culturale interessante. La lealtà verso l'azienda è molto apprezzata in tali società. È vero i dipendenti danno priorità alle relazioni e alla stabilità a lungo termine, il che può portare a una maggiore lealtà e impegno. Nelle culture collettiviste, l'attenzione è rivolta al benessere collettivo piuttosto che al successo individuale. Assolutamente. I dipendenti spesso danno priorità all'armonia del gruppo e al benessere dell'organizzazione rispetto alle ambizioni personali. Questa preferenza per la fedeltà aziendale può contribuire a creare un forte senso di appartenenza e cameratismo tra colleghi. È corretto. Promuove un ambiente di lavoro favorevole e incoraggia la collaborazione e il lavoro di squadra. Tuttavia, può anche limitare le opportunità di avanzamento di carriera ed esplorazione al di fuori della propria organizzazione attuale. Hai ragione è importante trovare un equilibrio tra lealtà e crescita personale, soprattutto in un mondo in rapido cambiamento. L'adattabilità e l'apprendimento continuo diventano cruciali in questi scenari. I dipendenti devono rimanere pertinenti e acquisire nuove competenze. Assolutamente. Abbracciare il cambiamento e cercare opportunità di crescita può migliorare le prospettive di carriera e lo sviluppo personale. È interessante confrontare questa prospettiva con le società individualistiche, in cui il cambio di lavoro e la mobilità professionale sono più comuni. Infatti, nelle culture individualistiche, gli individui spesso danno la priorità agli obiettivi personali e all'avanzamento di carriera rispetto alla fidelizzazione aziendale a lungo termine. Il contesto culturale gioca un ruolo significativo nel plasmare gli atteggiamenti e le aspettative di carriera. È affascinante esplorare queste differenze. Assolutamente. Comprendere le sfumature culturali può contribuire a una comunicazione e una collaborazione efficaci in un ambiente di lavoro globalizzato. È importante apprezzare e rispettare diversi punti di vista e approcci al lavoro. Questo arricchisce le nostre interazioni professionali. Ben detto. Abbracciare la diversità culturale e adottare una mentalità flessibile può portare a connessioni significative e collaborazioni di successo. È stata una conversazione perspicace. Apprezzo l'opportunità di apprendere e discutere questi affascinanti aspetti della cultura e delle carriere. Allo stesso modo. Sono lieto che abbiamo potuto approfondire questo argomento. Continuiamo a esplorare e imparare insieme. Fino alla prossima volta. Fino alla prossima volta. Grazie a tutti